Prima settimana di lavoro? Sì, dobbiamo ripetere quello che abbiamo detto la volta scorsa, tre giorni fa, cioè questi sono test poco significativi per certi aspetti, però cominciamo a conoscerci di più, i ragazzi possono giocare di più insieme. Direi che certe cose sono state fatte anche di Mino, ma man mano che andiamo avanti aumenteremo lo spessore dell'avversario, andremo incontro a poche difficoltà e questo è quello che si fa sempre in rettivo a tutti gli anni. Bene per il momento, ma soprattutto per quello che riguarda il lavoro nel suo complesso. Dopo Gabriel Silva, come interno, anche Pereira ha provato come trequartista, un'altra soluzione tattica in vista della nostra? Sì, Max può giocare più ruoli nel centro campo, per me è solo un esterno, ma anche un interno, e anche se come me è un trequartista può fare bene anche un po' di più. Sì, ma io non sono così arrogante, però sono abbastanza deciso, cioè a lui avevo chiesto alla fine della stagione di presentarsi in un certo modo, non l'ha fatto, quindi adesso deve continuare su questa strada, perché è un ragazzo di 21 anni e ha bisogno di imparare tante cose, la prima di tutte è, se si vuole fare questa professione, avere rispetto proprio al proprio corpo, al proprio fisico, in un po' di chili sopporteso, in più uno può farsi anche andare da un punto di vista muscolare durante una preparazione piuttosto grande. Quindi è un ragazzo a cui bisogna stare dietro, che fa sostenuto, che va in forza, che ha fatto già tirare l'acqua. No, 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 che giù è. Ero! Ecco, no, cioè no, sì, Barretto sta bene, anche se oggi per le appaurazioni, consigliati da gli uomini dello sparo da crisiaternak, preparatori crei, medici, abbiamo deciso di non schierarlo, perché? Perché lui sta lavorando tutti i giorni con noi, fa tutti gli allenamenti, però è alla prima preparazione nella quale si dura intensamente il giorno dopo un periodo piuttosto lungo nel quale ha dovuto o non allenarsi o allenarsi gradatamente, quindi per lui non ci sono problemi particolari, solo qualche precauzione in più perché siamo tutti carichi di lavoro, soprattutto quei ragazzi, lui in particolare, che vengono da una stagione difficile, con tanti infortuni e poco lavoro alle spalle. Questa è la sua selezione. Potrebbe essere impiegato per le persone che si è più o meno? Potremmo, potremmo, però vedremo nel prossimo giorno quale sarà la condizione, non è in quale sarà la scelta, ma adesso, man mano che andiamo avanti, non è che potrò fare tantissimi campi, ho ancora abbastanza, ma non più tantissimi, perché cominceremo a dare minutaggio a un certo numero dei giocatori, però vedremo, non c'è la possibilità. Cominciare da 3-2 ex-ternaversario diventa più importante, inizialmente la Lega Pro, cominciavano già da mercoledì? Può darsi, sicuramente dalla partita di Bergamo, per me è quello di me.